Adesso ho un po' domenica di Ducati, perché la foto è l'unico in quella casa lì. Sì, sì, sì. La domanda è che voi che direi del fianco, se vuoi comprare qualcosa per domani, noi andiamo da che altro in fondo, guarda che siamo in viaggio. Hai capito? Che devo chiedere? Se vuoi andare in quella storcheria, se vuoi comprare qualcosa per domani. Domani che vuoi? E mi hai chiuso? Che sera? No, dopo andiamo. Hai più di qua? Eh sì, penso anche via. Cosa mangiamo? Mmm, baccalà. No, lasagne con il pisto, no. Ah, però ho te che lasagna. Lasagne? Quei l'agri che ho portato io. Ah sì, 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 lasagne. Col pesto, lui le mangia volentieri. Sì. E la Susanna oggi che pesce ha mangiato? Oggi? No. Susanna mangia sera, solo pasta. Cattate. Io non vengo domani come natura perché devo finire di portare via le erbe domani l'ultimo giorno. e sabato mi preparo le erbe domani. Metà l'ho già preparata e dopo non ci vediamo più. No, sarebbe un po' pesante. Un po' pesante. Un po' pesante. In caso di voglia morire è meglio. Gagno anche io. Sì. 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 E io non ho problema. Dopo problemi. Molto problema. Commentarii. Ma io amica no. E i dici siamo rimni? Mascherina. Sempre in mascherina. Molto. Adesso problema mascherina. Tutto giorno mascherina. Mare. Grazie a tutti